L'iniziativa di ANCI sul Sisma Emilia-Romagna è stata molto articolata. Noi abbiamo operato sia in emergenza, di concerto con il Commissario e la Dipartimento della Protezione Civile, e per poi arrivare nella seconda fase di avvio della ricostruzione e di affiancamento ai comuni nella fase di ricostruzione. Nella prima fase abbiamo lavorato aiutando i comuni con i centri operativi comunali, dandogli personale integrativo. Abbiamo avuto circa 5.000 giornate uomo di tecnici comunali che da altri comuni sono andati nei comuni del cratere e oltre 10.000 giornate di Polizia Municipale che da altri comandi sono andati nei comandi del cratere. Abbiamo costruito un sistema di tracciamento di tutti i finanziamenti pubblici che si chiama Open Ricostruzione. Questo è un modo di garantire la trasparenza e la democrazia. È possibile tracciare ogni singolo quadro finanziario di ogni opera donata con gli SMS o in altro modo ed eventualmente anche integrare quando questo quadro finanziario non dovesse completare le opere.